Ah, se avessi un po' di tempo! Questa è l'affermazione che spesso sentiamo ovunque ci giriamo. E allora, vuoi una soluzione per guadagnare un po' di tempo? Bene, concentrati sulle cose importanti, delega quelle secondarie e rinuncia a quelle futili. Einstein diceva le prime cose prima. Cioè, vale a dire, le cose meno importanti, quelle stupide, quelle di secondo piano, non devono soccombere alle cose più importanti. E quindi individui quali sono le cose veramente importanti nella tua vita e nella tua attività e concentrati su quelle. E poi magari le cose di secondo piano cerca di delegarle, ma soprattutto cerca di smettere di fare le cose assolutamente inutili. E se vuoi guadagnare tempo, poi, attenzione, poniti obiettivi grandi. Facci caso, quando hai un grande obiettivo da realizzare, hai una sensazione di forza, di spazio tra te e quella cosa che vuoi realizzare. E chiaramente avere questa sensazione ti mette nelle condizioni di sviluppare tanta energia vitale. E quindi nell'equazione energia-spazio-tempo, come fare per ottenere più tempo, poniti sogni grandi.